Il presidente statunitense Donald Trump e i media ha i ferricorti. Per la prima volta la Casa Bianca ha escluso da un briefing ufficiale alcune testate e giornalisti considerati disonesti. La lista nera comprende la CNN, il New York Times, Politico e il Los Angeles Times. Per conseguenza all'evento hanno partecipato solo i media conservatori, il sito Braibart, il Wall Street Journal, Fox News, CBS e Bloomberg. Immediata la reazione del presidente dell'Associazione dei Corrispondenti della Casa Bianca, Jeff Mason, che ha annunciato una dura protesta per una mossa definita inusuale e senza precedenti. La CNN parla di vendetta per le notizie che hanno disturbato il potere. Il New York Times ricorda che mai era finora accaduta una cosa del genere. Lo strappo si è consumato poche ore dopo che Trump aveva lanciato una requisitoria contro i media a suo dire disonesti. Grazie.